Vuoi approfondire il tuo piano di studi su sociologia, concetto di devianza, teorie sul mutamento sociale, teorie psicologiche? Icotea, istituto universitario riconosciuto dal MIUR, ti offre la possibilità di seguire il corso di sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale, SPS 12, e di sostenere l'esame di profitto sulla propria pratica piattaforma e-learning. Dopo aver superato l'esame finale, ai corsisti sarà rilasciata la relativa certificazione. Informati su www.icotea.it, tipologia, corsi singoli, clicca, sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale, SPS 12.